E bentrovati ragazzi, ancora una chiacchierata all'insegna di questi video nel quotidiano che ci danno spunto per parlare. Allora, questa almeno io la prendo come una bella notizia, però prima di farci sta chiacchierata come di consueto partiamo con la nostra intro. Allora ragazzi, come vi stavo dicendo, questa va presa assolutamente come una bella notizia, c'è poco da fare. Non c'è ancora l'ufficialità, ma è molto, molto probabile che diamo l'addio, in senso metaforico, a Raul Moro, l'ennesima grande, micidiale, maledetta sola legata alla gestione precedente del vecchio DS, che non c'è più. Ora vi dico la sincera verità, non ricordo bene quanto pagammo Raul Moro, ma la testa mi porta circa 6 milioni di euro. La Lazio, che non c'ha una lira neanche per magnà, detta proprio alla romana, si è permessa a suo tempo di buttare 6 milioni di euro per questo Raul Moro, un giocatore che ha fatto qualcosina nella primavera, non appena ha messo piede in prima squadra, ci siamo resi conto in maniera proprio clamorosa di che giocatore era, senza offesa per l'uomo, parlo chiaramente solamente del giocatore, non mi permetterete di andare oltre. Un giocatore che mi viene naturalmente da descrivere come insulso. Un giocatore che se gli passava vicino l'avversario cascava per terra, volava due metri per terra. L'ho visto dal vivo, l'ho visto giocare ad Auronzo Dicatore in due ritiri. Ragazzi miei, permettetemi di dire che giocatore assolutamente non all'altezza della Lazio, non strutturato fisicamente, magari tecnicamente sì, bravo a tenere la palla al piede, però ragazzi miei non si poteva ipotizzare altro di positivo per questo giocatore nella Lazio. Non è proprio un giocatore di categoria. Mi dispiace. E lo stesso paragone, seppure a livello tecnico di molto superiore, io lo faccio per Luca Romero, ragazzi miei. Ve lo dico proprio sinceramente. Cioè, per me, Luca Romero, allo stesso modo, fisicamente, non è un giocatore strutturato per la Serie A. Poi vediamo un po' se lo prende il Milan, vediamo cosa riesce a fare il Milan con Luca Romero. A quel punto, se il Milan dovesse far bene, tutti sì, 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 quindi stiamo a parlare del niente. Se il Milan dovesse far bene per Luca Romero, a quel punto scatterebbe un'autocritica sul perché a Roma non è andato. Io ve la dico sincera. Luca Romero, Raul Moro, basta con queste vedove e questi ragazzini che non hanno dimostrato niente. non hanno dimostrato assolutamente niente. Ecco, abbiamo bisogno di giocatori pronti. Abbiamo bisogno di giocatori che li può mettere in campo nei momenti di necessità e devono essere pronti, devono dire la loro. Ma la prima cosa per essere pronti, per come la vedo io, è fisicamente. Devono essere giocatori che fisicamente ci devono stare. Altrimenti, raga, è inutile, è inutile. Perché abbiamo perso tempo, abbiamo buttato soldi, noi che non ce lo possiamo permettere, ma soprattutto la cosa che più mi dà rabbia è che abbiamo perso tempo. Amici miei, abbiamo perso tempo a stare dietro a Luca Romero, a stare dietro a... Ragazzi, faccio finta di essere un fregnone. come si può spendere 6 milioni e mezzo di euro per Raul Moro? Mi piacerebbe sapere cosa c'era dietro a questo acquisto di Raul Moro. La Lazio, che sta attenta pure a spendere 500 mila euro, che ha fatto saltare trattative per 500, 600, 700 mila euro, improvvisamente va a spendere 6 milioni, 6 milioni e mezzo di euro per Raul Moro. Facciamoci, cioè io penso che non so solo io essermi posto a sta domanda, è tuttora a distanza di anni a pormi la stessa domanda. Comunque, la notizia positiva è che, considerando che Raul Moro sta con noi da 3 anni, due ritiri l'ho visti a Uronzo, o da 3 o da 4 anni, Raul Moro, aiutatemi a raggiungere affarmente locale nei commenti, in qualche modo lo hai ammortizzato un milione e mezzo all'anno? Sì, forse lo hai ammortizzato, forse lo hai ammortizzato, sì. Perché? Perché la notizia positiva è che Raul Moro al 99% lo salutiamo definitivamente, infatti Real Oviedo è rimasto, grazie al cielo, molto soddisfatto della stagione disputata da Raul Moro e dovrebbe versare nelle casse della Lazio circa 2 milioni di euro. Io ho la sensazione, a parte la Lazio che comincia a piazzare i giocatori e a liberarsi dei giocatori in maniera così veloce, già questa per me è una cosa un po' nuova. La Lazio è roba che per piazzare un giocatore ci metteva mesi, 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 li piazzava quasi sempre, ricordatevi, fateci caso, l'ultimo giorno di calcio mercato, fateci caso ragazzi, li piazzava sempre l'ultimo giorno nell'ultimo battuto di calcio mercato in fretta e furia. Invece adesso già 2-3 li abbiamo piazzati e Raul Moro pure ci porta un paio di milioncini che aiutano la Lazio a parte ad avere un utile nelle casse ancora non sto dicendo che la Lazio non abbia soldi però intanto qualche milioncino con queste uscitine tu le stai lo stai mettendo in cassaforte e già questo per quanto mi riguarda è buono, è buono. 6 milioni e mezzo 6 milioni e mezzo per Raul Moro raga più me lo ripeto e più dico mannaggia la mignotta scusate eh quando ci vuole ci vuole 6 e mezzo meno i 2 che ti dovrebbe versare il Realo Viedo 4 e mezzo dai diciamo che la Lazio dovrebbe chiudere pari e patta forse un leggerissimo utile quindi una leggerissima plusvalenza forse nel tempo eh non è che non ragionate sul fatto che l'hai pagato 6 e mezzo ne incassi 2 stai sotto dai 4 e mezzo no perché vi ho sempre spiegato che per un giocatore che prendi il suo valore va spalmato per la durata dei suoi dei suoi anni chiaro? ecco cioè mi raccomando ragazzi perché altrimenti poi rischiamo di andare in confusione secondo me un leggerissimo utile la Lazio ce lo tira fuori con Raul Moro resta il fatto che io da tifoso della Lazio faccio un appello alla società sportiva Lazio per favore per favore mai più questi affari strani che vedono che vedono la Lazio cacciare tanti soldi quando non caccia mai tanti soldi per giocatori pressoché sconosciuti per favore io faccio solo questo appello basta buttare soldi perché io 6 milioni e mezzo di euro anziché andarmi a prendere un Raul Moro qualunque io con 6 milioni e mezzo di euro mi ci pago gli investimenti per un anno sul settore giovanile la voglio andare a parare per favore detto questo un ciao a Raul Moro un saluto pure a voi e andiamo avanti ciao ragazzi forza Lazio grazie 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 grazie